In Inghilterra, patria delle scommesse, ci avrebbero scommesso e avrebbero vinto i bookmakers pagando pochissimo la vittoria del no alle donne. Che sarebbe finita così era già scritto e sapete perché? Le liste per le prossime elezioni in Puglia sono già state fatte, almeno al 90%. I partiti, tutti, al di là di quello che hanno detto, dicono e diranno, avevano già deciso e sono andati avanti senza tener conto della questione femminile. Le liste sono ormai chiuse. Nessuno le avrebbe mai riaperte. Mancano soltanto poche caselle da riempire e sono vuote, ma non perché sarebbero eventualmente andati quei posti alle donne. Perciò anche il dispiacere che si sente da più parti per la mancata approvazione delle norme sulla parità di genere, tranne qualche caso, è pianto di coccodrillo. Ma detto questo, va anche detta qualcosa alle donne, le quali si sono ingenuamente fatte prendere in giro. Questo dimostra ancora una volta che non è la politica a non essere fatta per le donne, ma sono le donne a non essere fatte per la politica. Perché per far politica ed entrare nelle istituzioni o nel Parlamento non ci vogliono leggi che lo impongano, ma soltanto disponibilità, interesse. esattamente quello che hanno le poche donne che in politica e nelle istituzioni ci sono, ci sono entrate, senza leggi particolari per loro. Ora, la battaglia non andava fatta nell'aula del Consiglio, dove le cose arrivano già pronte, no? Del Consiglio regionale, ma andava fatta nei partiti di appartenenza. L'hanno persa. Ma forse sarebbe meglio dire che non l'hanno saputa vincere, perché non avrebbero dovuto chiedere una legge, ma semplicemente avrebbero dovuto prendersi il posto, con il loro impegno, con la loro partecipazione, soprattutto con i loro voti. Il voto non ha sesso, è uguale, è di tutti e per tutti. Per questo non lo si può imporre per legge. Grazie a tutti.